La pallavolo è uno sport di estremo spettacolo, i fondamentali della pallavolo sono difficili ma quando realizzati bene esprimono questa forza a disposizione della bellezza del gesto. Io invito tutti a seguirci e ovviamente a sostenerci perché partecipare ai giochi olimpici è il sogno di ogni atleta e invito anche a sostenere questa squadra guardandola guardando anche proprio al gioco dal punto di vista estetico. La pallavolo è uno sport bellissimo che sviluppa in maniera molto armonica il corpo e quindi oltre al combattere per un risultato sportivo speriamo di offrire anche a chi ci seguirà uno spettacolo bello, piacevole da vedere.